a rai 3 si respira ultimamente un clima piuttosto pesante c'è infatti palesemente maretta fra bianca berlinguer rassicurante volto di cancelletto carta bianca e sigfrido ranucci attualmente al timone del programma di inchiesta e approfondimento report ieri sera nel corso della sua trasmissione in prima serata bianca berlinguer ha infatti deciso di lanciare al collega ranucci una frecciatina bella e buona salutando massimo gramellini oggi conduttore nella rete del format le parole la presentatrice ha dichiarato senza farsi troppi problemi grazie tantissimo a massimo gramellini che a differenza di altri colleghi di questa rete viene da noi e resiste alla concorrenza una stoccata a suo modo gratuita nei confronti del collega sigfrido ranucci che non è stato direttamente menzionato per nome e cognome ci mancava solo quello ma al quale ha fatto riferimento in termini molto furbi e sibilli i più attenti infatti non si sono fatti sfuggire il fatto che l'attuale conduttore di report fosse presente fra gli ospiti di di martedì di giovanni floris lo scorso 29 novembre non soltanto si tratta di un programma diretto concorrente al talk show di rai 3 condotto da bianca berlinguer ma si tratta anche di un appuntamento che per ranucci si è ripetuto in svariate occasioni dal 2020 sembra dunque che con le frasi pronunciate ieri sera la presentatrice abbia deciso di dare pan per focaccia al collega che lo scorso anno a sua volta si era permesso un piccolo sfogo a lei rivolto come riporta il sito davide maggio nel 2021 sigfrido ranucci sempre nella cornice di di martedì di giovanni floris si era permesso di fare una dichiarazione particolarmente velenosa qui sotto potete recuperare quello che aveva detto a floris la mia presenza in un programma diverso dalla rai è stata autorizzata lo era invece chi si è fatto intervistare dalla televisione privata mentre portava a passeggio il cane attenzione attenzione